Rifarei assolutamente tutto quello che ho fatto e ne sono orgoglioso, non per mio conto ma in nome dei medici di emergenza e urgenza italiani. Lo avevamo intervistato l'ultima volta per la vicenda delle sanzioni ai sanitari che avevano lavorato oltre l'orario durante il periodo Covid. Aveva scritto una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per cancellare la delusione di un medico che in nome del giuramento di Ippocrate aveva messo la sua vita al servizio dei pazienti. Era così Vito Procacci, un'anima buona col camice bianco, da diversi anni era il direttore del pronto soccorso del Policlinico di Bari che aveva guidato in una serie di trasformazioni passando attraverso la complicata gestione della pandemia. A portarselo via è stato un malore durante un bagno serale nel mare di Gallipoli in uno dei rari momenti di pausa da un lavoro che lo assorbiva anima e corpo. Del resto guidare un pronto soccorso, soprattutto il più importante di una città capoluogo di regione, non è impresa facile. L'obiettivo in questi anni era sempre stato in ogni caso quello di migliorare il servizio per i pazienti anche a fronte di criticità che possono capitare quando si opera sul confine della vita. Noi veramente ce la stiamo mettendo tutta perché abbiamo compreso che solo attraverso l'alleanza tra il sistema sanitario e gli utenti e la gente e i malati si può sicuramente creare appunto quel clima che dicevo di efficienza cordiale. In tanti hanno speso parole per ricordare il dottor Procacci dal presidente della regione Michele Emiliano che lo ha definito un vero eroe, un uomo di eccezionale valore umano, al sindaco di Bari Vitolecese che ne ha ricordato la generosità, competenze e dedizioni, espressioni autentiche dei più nobili valori che ispirano il giuramento di Ippocrate. L'eurodeputato Antonio De Caro parla di persona difficile da dimenticare, un professionista straordinario che rappresentava l'essenza del medico di pronto soccorso per il quale il servizio era una vera e propria missione di vita, scrivono in un posto dal Policlinico di Bari. Una persona sempre disponibile, un medico di profonda umanità, un professionista molto competente e preparato, ricorda il presidente dell'ordine dei medici di Bari, Filippo Anelli. Se si riferisce alla mia scelta di fare il medico di emergenza, ho già detto che se dovessi nascere un milione di volte rifarei sempre la stessa scelta e questo è un messaggio forte nei confronti dei nostri giovani, perché la medicina d'urgenza è bellissima e soprattutto il più sacro baluardo del diritto alla salute dell'uomo.